Eccoci in compagnia di The Last of Us Allora, riprendiamo subito dove eravamo Praticamente Bene, subito morto Non poteva iniziare meglio No, vi dicevo, allora Prima di erano entrati dentro a questo pub E lo zio Tommy praticamente ci aveva Ci aveva aiutato a scappare Allora, andiamo subito Vediamo un po' Eramo entrati in quel vivo dove erano stati Presi da Da un malato E ovviamente ci ha salvato Poi ovviamente mettendoci con Con la pistola a proteggere la porta Siamo riusciti a scappare Adesso siamo solamente noi due Papà e papà e Sara Vediamo subito E' arrivato Ci ha salvato questa volta Militare mi sembra Ok Noi non siamo malati Ho due civili qui sul perimetro esterno Distruzioni Papà e l'uzzio Tommy Non la vediamo bene Esatto l'uzzio Tommy Se lo saranno mangiato O sarà rimasto Sarà sopravvissuto a quell'attacco Perché una volta non la vediamo bene Con 20-30 Malati Che pure hanno affondato Che cosa mi sono io L'ha preso? Grande Grandissimo Già la seconda volta Che ci salgo O la terza Già Grande zio Tommy Io direi Anche se Non sarebbe male andare a prendere Quello nitragliatore Oh l'ha preso Sara Mi piaceva la gamba E gli faceva male Adesso pure un bel proiettile E lo stomaco No, 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 no Oh madonna No, no Ah, già iniziava molto male questo gioco Già teneva via un bel proiettile del gioco Ti prego Mamma mia Quindi rimaniamo solamente noi Ah, ok Noi con lo giudoglio E' un po' che succede Quindi quello durante lo possiamo Considerare un po' Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza No, un po' intanto Devevo vedere che cosa succede Dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Ha mostrato che i vaccini testati sono iniziali Sono volati Con i burocrati privati del potere Possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini L'ultima città in cui è stata dichiarata una legge marziale Tutti i residenzi ha richiesto di fare rapporto alle zone iniziali E i disordi non lo seguono da tre giorni consecutivi Sono volati Un gruppo che si fa chiamare Le Luci Ha rivendicato la paternità di entrambi gli attagli E lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri semplosimenti delle luci Sto parlando perchè sta leggendo la drama così capiamo che cosa sta succedendo Questa è ricordata di ribellarvi con noi Ricordate, rupetete l'impunio Cercate le luci Credete nelle luci Ok, c'erano quelle che invece avevano rinunigliato gli attacchi Per una parte di normale Quindi bisogna stare attenti In queste zone Non ci veniva l'altra 20 anni dopo Ma Di volta che cosa era successo Sì, sono arrivato Sì, sono arrivato Non c'erano Sì, sono arrivato Emo tanto Come si chiedeci un caffè la monza si è indiciata barbetta non è piante è molto bello è lucidato vieni a pure le botte adesso si dà la mancia sverenata eccolo, vediamo un po' nascerà l'amore per lui bella attenzione e crede di poterci potere per primo non lo è abbastanza so tu che si nasconde un vecchio magazzino nell'area 5 ma non so per quanto io sono pronto anche subito, ti va? no, subito puoi andare andiamolo a prendere nell'area 5 ora andiamo un po' più che altro a sapere che cosa abbiamo a disposizione andiamo a mani nude così senza niente non è nulla ci restano poche ore al copy punto no, poi scopi poco dovrà concludere perché è garantita che il malattico è già in giro di no ok, non so c'è qualcosa che mi diceva che dobbiamo prendere mi sembra di no intanto che mi devo dire qualcosa devo interagire a sinistra ci dovrebbe essere il teatro quello che stava andando a fuoco che era arrivata la polizia che noi correvamo con Sara quando era ancora viva qua non so ma non so a sinistra cittadini l'obbedienza al personale cittadino e obbligatoria ma ti la ferici voi ancora bene non so è fortissimo erano così se ne scavano tu vai terza fammi strada vai vai no limitari che succede? non vorrei quello che sto pensando vediamo un po' ma la riguettura mi sembra di no ok, così calmo, calmo vediamo un po' che abbiamo fatto quest'altro bene prima che si sta rinunciando andiamo con test tu fammi strada, via via andiamo andiamo altri militari tutti i migliori e andiamo tranquilli tranquilli con mani vuote ovviamente che conosceranno mettiamo così senza problemi io dobbiamo andare lei non cambia io il fatto che dobbiamo andare su andiamo va bene va bene andiamo un po' del micro che dobbiamo fare ammazzarino eccoci tutta a porta i documenti e non siamo malati un giorno libero visita un uomo bene passate pure grazie bene 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 un cavolo bene un cavolo bene un cavolo ok ok e le due per correre via 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 uguale che avevo detto che andava tutto bene ecco quindi possiamo entrare dentro all'area 5 e quindi andiamo chiudere la porta senza forza eh sì è stato un attacco ok le pende allora faccia del periodo quando utilizzo un kit di supporto vedete appunto all'ottava porto che è seguito di vai via il kit ok viene premuto R1 lo vediamo iniziare ok perfetto ed è R1 mettiamoci una bella guarita perfetto quindi a dentro è la barra dell'energia andiamo ok quindi sicuramente dobbiamo fare il giro qui come sta dicendo andiamo avanti andiamo avanti è ciao lì sono bene lì che avessi dentro è un figlio grande è la rotetta la fiamoreta è fin centro non vale che hanno visto lì quella è stata facile e ha un po' e è molto ora è proprio camminato qui Ciao bello, ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo, altro, niente, non si può interagire, andiamo avanti, stiamo cercando rodo, sarà meglio che lo troviamo prima delle rute, e lui c'erano due gruppi che avevano rivendicato gli attacchi, mi tengono il video precedente, c'è qualcosa da prendere, un po', 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 super rosso, che leggo nella opinione? Com'è ho visto in questo posto? lo dobbiamo accendere… Campinare al senso. Arriv Statement da da Eirosμα. Grande! ovviamente se ci rimettete un attimo, richiudete che ci siamo in paese al tool, perché non ci beccano. Allora, portavo un momento a raccogliere. Se mi aspetti, non c'è ancora un po' niente. Grande la pistola, finalmente mi sento un po' più tranquillo. Ecco, le emozioni scazzeggiano molto male. Maschera, zaino, via, andiamo. Ok, adesso sta molto più tranquillo. Premi a rumo, quando lo stai mirando vuoi ricaricare. Ok, ricaricato. Bene, Texas. Dove? Qui? Ok. E poi a me? Sì, sì, vai. Vio. Tutta questa forza c'è. Dai, su. Su. Grande. Una bestia fortissima. Grande. Via. Andiamo qui. Triangolo. Ovviamente dobbiamo uscire. Via. Vai. Andiamo andati. Passiamo noi. Vai. Subito. Non si vede che c'è stato come il grosso 15 metri per terra. Ok. Perfetto. Interagiamo. Wow, bellissimo. Mamma mia che grafica. Annulare. Bellissimo. La mente è bella. Vediamo che come si muove la vigilazione. stiamo facendo un giro assurdo e visto qui c'è perché la scala non c'è molto non c'è molto dove guarda raggiù dove nessuna scala qui l'ho vista, l'ho vista, tranquilli tranquilli che la prendo i barri all'imbloccato prendi il triangolo per visualizzare appoggiai a scala le pareti per accedere alle zone se la scala all'altra sono state le scala potrei recuperare e portare ok possono anche essere messi i video la luce che sta accesa perfetto così suona bello prima le singole sicuramente già ho il pensiero perché le fatta passare prima ok andiamo su non c'è qualcosa dentro le distanze per ottenere la luce e quindi giù giù e giù queste case disastrate risposte Robert ha ancora le nostre lo sarà meglio per lui di per attivare la maschera, la cosa non promette molto bene per attivare la maschera. Ok, questo bene notato. Ecco, bene, ci crolla tutto sopra, infatti non mi sono accorto che stavo quasi per morire. Ok, passiamo via. Piano, 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 che controlla tutto. Che cavolo, e non spuntare così. Mamma mia. No, rimani lì, non ti conosco, non so chi sei. Ok, andiamo avanti. Prendi premuto per prendere la mira. Aia. Aia. Ho solo quattro punizioni? Pronto, ma io voglio far appoggiare. Non mi interessa, per me vuoi rimanere anche lì. Prendi a due per intensificare la unicione. forte. Poi ci sono due malati lì che stanno divorando una persona e un altro qui. Ok. Adesso ti faccio secco. Vai. Strangola. Grande. e uno e mezzo. Adesso andrei a prendere gli altri due. Vediamo un po'. E li possiamo prendere a pugni. Noi. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco, ecco. Forza. Grande. Massacrala. E tapp. Girati. Tu. Volca. Vai. Ezi. Oh, grande. Massacrate entrati. Bene. Io sono migliore. Prendiamo però a tezza un po' di... ...lle energie. Torniamo in città. Torniamo in città. Ok. Io uscirei più di qui. E niente. Non c'è. Una porta. Vai. Chiediamo un po'. Niente. Perfetto. Le emizioni. Perfetto. Non c'è neanche una. Non c'è nient'altro. Non c'è neanche una. Non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Chiediamo un po'. Distribuito. E poi... Il servizio della lavatola. E da tipo della lavatola. Ok. Chiudiamo. Perfetto. Bene. Usciamo subito da qui. Non mi sembra una zona molto piacevole. Cambio R3 per attivare la toccia. Oh, grande. Non c'è ne fattiglia. 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 E' già riaperta. E' porto la macchera qui. Mamma mia. Oh, che praticamente è bellissimo. Stavoloso. Qui? Ah, tutti i passaggi di Zegrevi. Grandissime. Qui qua. Devo richiedere? Ok. 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 Ma che gioco corri? Tu. Anderzo… Lascia cadere. Aderzo… Qui si va… si è gentile andremo a riprendere l'asse ok io se la passerei in qui infatti mi metto nel senso ok poi posso ritornare tu da qui è fortissimo però devi dare tutto il giro per incalire su ok andiamo vai vai uno questo è un po' facciato tu vai perfetto l'angolo abbiamo messo l'asse così un lavoro di meno è un po' di più pesante senti da che bel peperino vai bene ok vediamo un po' di più ok Ok, bisogna stare molto attenti perché le munizioni sono poche, la vita è poca, quindi penso che bisogna fare un po' più un approccio stesso, con il fatto che sono abituato sempre con sparatutto, prima persona, terza persona che vado a sparare a destra quanta, penso che devo cercare di gestire al meglio salute e munizioni, per quanto non posso andare a quello stracello come faccio sempre, chiediamo un po', chiudiamo, ok, la cosa non permette mai bene ogni volta che uno chiude la porta alle spalle, quindi nel senso che non si ha paura mentre qualcuno o penso che stanno sopravvendo, prendi le munizioni, abbiamo anche solamente 4, 6, 7, 8, 8, a bussare, lunghi? Ah, è qualcuno, va, il campo deve essere lì. Cercherò quindi di fare i video un po' più lunghi rispetto al primo perché così almeno cerchiamo di definirlo prima, anche perché tanto cercherò di farli uscire in un po' cadenza quotidiana, così vi do il tempo di vedere bene tutto il video in un paio di giorni. Vediamo un po'. Vai cagnolini, su, tu cagnolini, bello, guarda che bizzarro, mi hai bloccato, non posso più passare, facciamo il giro, questo non ha un bello affetto, una mazza, eh sì, se troppo compro, ma più di altro se troppo mi pagassi la testa, quindi io me ne andrei, con tutte belle mazze, intanto, un po' di vigilato, non pensa di andare, pregami tu, stavo già tirando fuori la pistola, beh, via, 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 va, 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 andiamo a prendere Robert, ok, andiamo a prendere Robert, ok, andiamo a prendere Robert, sa come parte rispettare questa donna, grandissima, bella personalità, bel tipetto, e bella aggressiva, poi c'è una bella forza fisica, come avete dovuto vedere, si incolla le assi, oppure ci tira giù, ok, ci siamo, e Robert? ahhh, guardate, che sparita, guardate, 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 guardate Io l'ho detto, questa è una grandissima. Questa è proprio una grande. Questa è una grande. Trova il punto migliore. Ok. No, 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 buoni. Buoni. Bene, per fa la testa. Bene. Dai, l'ho presa la testa piena. No. 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 Cavolo. Non ho partito tanto bene. Poi questo è un'altra. Non faccio bene. Non c'è un niente. Raccogliere. Cavolo. Ok, andiamo. Mamma mia, come gli ha sparato a quello lì. Grandissima. Da qui non si passa. Non si può scontare? Ehi, dammi un'attività. Che facciamo? Cavalchiamo? Che devo fare? Dammi un'attività. Su, che devo andare. Eh, che devo andare. Ok, speriamo. Ma, passiamo, guarda. Mi sta prendendo gusto, eh. Su. E io? Dammi una mano. Vai. Dammi. Mamma mia, comunque c'è una forza mostrata. È veramente spettacolare. Vai. Andiamo. Ok. Sì? No. Non viene niente da poter raccogliere. Sì. Sì. Niente. Sì. Ok. Passo io. No. Vedo altre protezioni. Quindi, una cosa, non trovo le atti della banda di Robert. Sì, ma io ho solo sette munizioni. Come facciamo? E ora lei e Joel stanno venendo a prendere. Vabbè, due sono i raggi. E poi, per uno, li facciamo sette. Allora. Dividiamoci. Mi chiede in un'emergenza di correre. E infatti, quello che stavo pensando. Ok. Piano, 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 piano. Piano, piano. Questo è morto. Vediamo le manuzioni. Piano, piano. Piano. Piano, 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 su, 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 su. Perfetto. Dai. Ora vediamo se c'è qualcosa qui. Prendo per visualizzare. Ok. Andiamo. Se c'è qualcosa, niente. Ci possiamo rialzare. Ormai, la fase è passata. Mi è andata. La nostra amica. Sicuramente non la vedo più. Non è che ci ha aspettato che dice... Questo è questo. Orca. E via. Oh. Mamma mia. Quindi, c'è questa attività. Oh, oh. Oh, cavolo. Mamma mia. Questo passo voglio prima del perito. È poco da lui. Eh, non ho andato a corte. Ok. Vediamoci un attimo. Quanto passo, se continuo così... ...moglio prima del perito. E' un po' di quello che non era uno là. Io pensavo era già in realtà, era da un'altra posta. Bisogna andare un po' più. Un po' più accovacciati. Ok. Piano piano. Vediamo. Andiamo a che cosa dirà. Questo non è. Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo dire qualcosa? Quindi, che non era quello? Questo è il primo di no. Che non aveva entrati? Il mio è chiuso? Un piccolo indizio? Che non è rilasciata? Che niente? E dove devo andare? Qualmamente? Sprecare? Preparate. Facciamo i del deposito. Ok. Let's. Facciamo i del deposito. Un' manfa di me. Credo. Ci dovrà essere una porta da aprire. perché non appare il triangolo giugio giugio forza ok fermiamoci qui siamo entrati nel deposito ci vediamo alla prossima puntata quindi al prossimo video di gameplay ciao